Un piccolo aggiornamento sulla questione del copyright. Anticipando che ho provato a telefonare per avere il diritto, pur acquistandolo, di poter leggere un audiolibro, anche gratuitamente, ho telefonato a Corbaccio, ho telefonato a Rizzoli, ho telefonato alla CIA di Padova e ho telefonato a Roma e non sono riuscito ad avere un'informazione su qual è la procedura, è scurella le possibilità. Allora ho mandato una mail alla Mondadori con una questione specifica, mi è stato dato il nome di una referente, che non faccio, e ho scritto, ho avuto il suo indirizzo da Mondadori in quanto referente per la mia richiesta. Ho l'intenzione di leggere a voce alta in forma di audiolibro e di postarne la lettura integrale gratuitamente sul mio canale di YouTube il libro Il Signore delle Mosche, di Golding, che posseggo in edizione Oscar Mondadori dal gennaio 1966. Non essendo ancora trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore e non volendo incorrere in sanzioni, vorrei sapere come fare per avere l'autorizzazione e le condizioni per tale autorizzazione. La ringrazio in anticipo per la risposta, che sono sicuro sarà sollecita. Un cordiale saluto. E qui la risposta è venuta sollecita nel giro di poche ore. Sentire al signor Walter Zanardi. Reading, audiobook e rielaborazione secondaria di opere ancora in diritto sono gestite dall'editore di ciascun paese, ma regolate dall'estate dell'autore. In particolare Mondadori non è interessata a concedere a terzi i diritti per gli audiolibri, che realizziamo interamente e vendiamo su sbagliate piattaforme. Desidero informarla che l'ultima edizione Mondadori è del 2017, cordiali saluti. A questo punto non c'è speranza. Voglio dire, non solo le edizioni cartacee, ma anche quelle in audiolibri, sono bloccate. Non c'è la possibilità di poter, neanche comprandola, di avere diritti, neanche per opere che sono state scritte. In questo caso l'edizione che ho io è stata pubblicata nel gennaio del 66. Non c'è speranza.